Allora, buonasera a tutti ragazzi, bentornati e ben ritrovati Ciao Desirix, non so se stai in chat, bella mia, ma un bacione, eccola Eccola là l'amore mio, eccola Come stai Desirix? Mamma mia quanto me manchi Ciao bella Allora, dicevamo, dicevamo ragazzi Ci abbiamo, oggi ci abbiamo, purtroppo Ripeto, purtroppo perché ieri solamente una persona ha donato 50 sub Vabbè, ma purtroppo, vabbè, purtroppo per voi, per fortuna per me Perché comunque qua, prima un po' dovrà finire sta maratona, no? Eh, penso, no? Amore mio No, vabbè Dai, mi metti un po' a disagio così però, Desirix, vabbè Comunque, ehm, scherzavo, tranquilla Grazie mille a Gintri, Gintri75, quattro mesi delle sub Ciao bellissimo, grazie Mua, un bacio enorme Io non so l'amore di nessuno Allora, ieri I8 Novak 8 ha donato 50 sub 50 bombe Pah, una botta secca 50 una botta secca Ehm L'amica tua delle marche era avanti Ah, sì, 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 sì Allora, i8 Novak 8i ha donato 50 sub Poi, ieri, purtroppo, ragazzi, giornata un po' magra Però, va bene così Non è un problema, non è un problema, nessun problema, ragazzi Allora, i8 Novak ha donato 50 sub Quindi, gli giro tutti i 10 Tutti i 10 Cioè, tutti i 5 i giri Sono tutti suoi Quindi, iniziamo subito col primo E andiamo Vai Ah, uno mi ha chiesto la ruota che cosa fa Voi non so se lo vedete In alto a destra, ragazzi, c'è un timer C'è un timer C'è questa maratona, ok Sto provando a fare questa roba da circa un mesetto, ok Da circa un mesetto, sto provando a fare È un po' un problema Più o meno Perché, comunque, ecco Sono tante ore, ecco Intrattenere per 24 ore non è facile Per niente Anche perché 8 ore devo dormire 8 ore dormo 8-9 ore dormo Poi, me devo preparare Devo fare la doccia Devo fare tutto Devo ringraziare pure mio padre Che mi dà una mano Fa la spesa, le cose Perché altrimenti qua andrei a cazzo dritto Lo ringrazio tantissimo E, niente Sì, fondamentalmente Quello che voglio dirvi è che Ma, lo pedale Tu sei lo streamer di Twitch e ce lo fai Sì, sì, io faccio tutto Desirix E, nulla Sta andando bene Ho avviato, insomma Questo progetto della maratona Quindi porto contenuti vari Da RP a giochi FPS A giochi Battle Royale Adesso mi sto concentrando sui Su GTA San Andreas Poi vorrei fare GTA 5 O GTA 4, vediamo O GTA 4 o GTA 5 La storia E poi nulla, vediamo Il resto Comunque, dicevamo Gaia, se n'è andata? Sì Sì, sì, se n'è andata Non la sento da ieri Borella Non lo faccio con cattiveria Cazzo Lo faccio con cattiveria Ok Comunque A parte questo A parte tutto C'è sta Redem C'è Redem Ho fatto un sacco di robe su Redem Poi vorrei fare Tipo Gioco TFT Faccio puntate con Qui si chiamo qui Si chiamo altri Insomma Cerco Fondamentalmente il mio Punto di forza Del momento C'è il mio Contenuto principale Redem Poi faccio altro Comunque C'è il timer in alto a destra Quando la maratona finirà Finirà E comunque Tornerò a fare Le mie 6-7 ore Al giorno De live Che Diciamo Me mancano Boh Ormai Stamaratona Mi sta prendendo gusto Quindi un po' Mi dispiacerebbe Mandarla un po' Giù Ecco E Mi dispiacerebbe Farla finire Però niente Risultati enormi Tutto preciso E solo che Qua c'è una ruota Che aumenta il timer Ogni sub Ragazzi Ogni sub Aumenta 5 minuti Ogni euro Aumenta Un minuto Ogni 100 bits Aumenta un minuto Quindi la maratona Funziona così Funziona che Più donazioni ci stanno E più tutto quanto Comunque Ieri abbiamo ricevuto 50 sub 50 sub gift Quindi 5 giri di ruota Detto questo Andiamo avanti Andiamo Via Primo giro Primo giro Grazie Parmiero Oh Ok E mi dispiace Ragazzi Mi dispiace 5 minuti Oggi Oggi Solo 5 minuti Oggi Solo 5 minuti Quindi via Mi dispiace Per tutti quelli Che Volevano magari Più 90 minuti Ma Ma no Non c'ho pedali Non c'ho pedali Mi dispiace Qua non è nulla truccato Qua non è niente Di truccato Allora 5 Ok 5 minuti Vai Poi Altro giro Vai 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 6 minuti Oh no cazzo No non è vero dai è impossibile No 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 è impossibile Non ci posso credere è impossibile E' impossibile una roba del genere Cioè se esce allora due E come ride io rido La madonna che rido la madonna di dio Allora secondo giro questo era Mù ci stanno altri tre giri Porca troia Dio cristo dio della madonna Vabbè Per due vabbè Allora aspettiamo la fine del giro Vai terzo giro No per quattro No per quattro No per quattro E dai dove stai? Qua Va fammi vedere Oh porco Ok 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 Terzo giro è andato bene Allora terzo giro Quindi via col qua Ok 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 Quindi metto 15 minuti perché Più quello di prima che non avevo messo Ok perfetto Rimuovo Allora Via con un altro Con l'ultimo giro Questo ragazzi Sarà l'ultimo giro Della ruota Vai No per se è impossibile Non è mai uscito Cioè ci sta veramente Una probabilità Impossibile Cioè non è Ok Giro bonus Giro bonus Giro bonus raga Però per il giro bonus Per il giro bonus Devo fare un pull Aspetta Faccio io Faccio io il pull Almeno Almeno 90% Di sì Sta scritto lì Giro bonus C'è stata la possibilità Di mettere i voti aggiuntivi Metto con 2000 punti canale Potete votare Il punto Il voto aggiuntivo Ah e poi c'è pure Ah è vero E poi c'è pure I punti canale Devo mettere pure I punti canale Devo mettere Giro bonus Io ci sta il giro bonus Ragazzi Ma chi è che vota no Ma chi cazzo è Che vota no Ma chi è che vota no Raga Ma chi è Ma chi è quel pirla Che vota Ma chi è Oh chi è che vota no Porca troia Ma c'è sta qualcuno Che non me vuole vedere in live Qualcuno che me vuole Ma porco Dio Oh Chi è che vota no Oh Oddio 89% 88% Vabbè qua siamo alla follia Niente Niente sì Niente giro bonus Grazie mille Morier 98% Sette mesi Delle sab Grazie Un bacio enorme Grazie mille E vabbè Oh ci sta gente Che non vuole vedere Vabbè Che non vuole un altro giro Vabbè Ci sta Ok Allora Dicevamo 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 Aspettate un attimo Che devo un attimo Vedere qua come si fa Due cose Devo vedere I punti canale Praticamente Dove ci sono stati Giri bonus Sui punti canale Vado a coda Le recompense Ok Nessuno Ha fatto un giro bonus Quindi Sono a 300.000 Punti canale Per un giro Della ruota Però nessuno L'ha riscattata Nessuno Ha riscattato I giri Sul Sui punti canale Perché l'ho messo Pure con i punti canali L'ho messo Ho messo la possibilità Che con i punti canale Giravo Altri Facevo altri giri Con i punti canale Però Nessuno ha puntato Quindi Oh porco Che madonna Devil Devil Ha riscattato Un giro Della morte Ok Rimuovo Un giro per te Devil Vai No per 4 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 20 minuti Porco Diavolo morto 20 minuti Porca puttana Troia Allora Vai Marathon timer 20 minuti Allora Ci abbiamo Allora Un giro per Parmiero Luigi E un giro per The Re al Vito Ok Allora i giri Ce ne stanno qua Allora Vai Qua per Parmiero Luigi No porco Dio No 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 Fermate puttana la madonna E va Più veloce Più veloce Ma vedi tu la madonna Se scappava Lo porco De Dio De Madonna Madonna Putrefatta Allora 5 minuti Allora Altro giro di ruota Vediamo perché Eh no Dai però Troppi giri Allora The Re al Vito Vai Questo qua è per te No 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 40 minuti No Per favore No No 40 minuti Allora Vai Altro giro per Kevin Io Ah 40 minuti Ho aggiunto Come ho scappato un'ora Ma non ci sta un'ora Che cazzo dici Ho messo tutto raga 5 minuti Allora Altro giro di ruota Per Marcus Cain Vai Perché non ho messo Il Perché non ho Cioè non ho capito Che scammo un'ora raga L'ora di prima Quale Ho capito raga Ma qual'è ora Allora Ok 5 minuti Allora ragazzi Se c'è qualcuno Che vuole riscattare Il punto di canale Adesso Domani Li segno Per domani Li segno Quindi domani Facciamo altri giri domani Comunque Adesso Un'ora Il per due Quindi adesso Attivo il per due Metto il timer Sul Devo metterlo un attimo Lo devo sistemare Un attimo Due cose Solo Per due Un attimo solo Che devo mettere Le cose Allora Time setting 120 secondi Un attimo raga Che devo Riaggiornare pure Il Questo Generate New link Ok Link rigenerato Per due Attivo Ragazzi Per due Attivo Metto il timer Sul cellulare Un'ora A partire Da adesso Per due Attivo Per due Attivo No ragazzi Non era un'ora Era per due Per un'ora Allora Per due Attivo Non manca Un'ora Raga dai Su basta Non mi fate Incazzare Ragazzi Dai E per due Attivo Per un'ora Oh ma che Cazzo vuoi BX1 Ma che Cazzo Volete Raga Ma io non Capisco Ho messo Il per due L'ho Attivato Il per due Il per due Adesso È attivo Grazie Babbo Grazie Mille È attivo Il per due Per un'ora Per un'ora Allora Comunque Adesso è attivo Ho finito di fare i giri Adesso è attivo Se volete donare Ragazzi Donate Comunque Allora È attivo Per un'ora Ripeto Qui ci sta Il timer 58 e 40 58 minuti E 40 secondi E quindi Dicevamo Eccoci Ragazzi È sempre stato così Basta Allora Il giro domani È bello mio Ma tanto tranquillo Che non è che scade Domani Giro per domani Comunque Se volete donare Ragazzi Io vi ripeto Ci sta Praticamente Lo so La ruota è scattata Per domani Comunque Qua ci sta Punto schiamativo Ruota Ho messo delle cose In più Se uno vuole risparmiare Un po' di soldi Lo può fare tranquillamente Ci sta La possibilità De faco 2500 bit Se uno prende il pacchetto Quello da 400 euro Ci sta il pacchetto Da 400 euro Che c'è il 15 O 20 per cento De sconto Su twitch Se uno vuole Comprare Il bit Oppure ci sta 10 sub 10 sub Secche Non 55 Secche Oppure ci sta 30 euro Su streamlabs 30 euro Su streamlabs Se uno vuole Fa una donazione Io personalmente Preferisco Streamlabs Ovviamente Preferisco streamlabs Ovvio Cioè I soldi Che mi arrivano Su paypal Così Ovviamente Che dopo Va fatturata E tutto Preferisco quelli Però se uno Non vuole Fa quella roba lì Vuole fare tramite twitch Può fare pure tranquillamente Sta roba qua Chi cazzo è Che spende 400 euro Beh Presente Io ragazzi Quando compro i bit Quando compro i bit Ragazzi Io li prendo Tutti quanti Sul Sul coso Grazie mille Sabian Gabriel Ciao bello 5 mesi delle sabbia Grazie mille Un bacio enorme Vieni pure tu Strong A Las Vegas E da madonna Dai Allora Per due Per due attivo Fino 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 le 20 Fino le 22 Fino le 21 E 57 Fino le 21 Ci Ok Ok Qua Via Mo Chiacchieriamo Chiacchieriamo Un po Un po De Perché con il per due Nessuno Non dona nessuno Perché Ma non è mica Obbligatoria Donare Cioè Come la ruota Non è mica Obbligatoria Cioè Se uno non vuole Donare Non dona Cioè Non ci vedo Nulla De Nulla De male Comunque Se devo essere Sincero Se devo essere Sincero Ma non è Non è che aspettano Il per quattro Allora Allora Io Tutto bene Truarfa Tutto bene Tutto bene Stasera andiamo su RP Sur Redem Sur Redem Ci abbiamo parecchie robette Da fare Ci abbiamo Ci abbiamo parecchie Contento il record Madonna Se sto felice Una piccola soddisfazione Una piccola roba Per di cazzo Non so Proprio Così morto Come tutti Dicono Dai Fammi partire Le danze A voglia GTA San Andreas Tra poco What the fuck 50 sabba Grazie 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 Mille X Final Porca Troia Ma hanno aumentato Il timer Mod Mi fate la clip Mi mandate per fuori Per vedere Siamo aumentato Grazie Final No madonna Ma questo lo metto proprio Grosso sul muro Lo scrivo grosso enorme X X Final F FX 1 2 3 4 5 Perfetto Grazie Angelo Carnucci 6 mesi Un bacio enorme Grazie mille Bellissimo Allora funziona Funziona Voglio se funziona Io Hypetrain Che sta vicino Raga Io Vai cazzo Tra poco pure Hypetrain E non solo Pure il record Cioè il record L'abbiamo superato 4930 4930 Raga Altro record Superato Porca Troia Tu pensa se arrivo a 5000 Oh la madonna De Dio Grazie Marco Bravo Grazie Marco Bravo Ciao bello Un bacio enorme Grazie Marco Prevo Dieci Sobette Fate Vai Domani Sei giri Ci abbiamo No Sei più I punti canali Quindi Magari Arriviamo pure Non so Sa quanti Porca Eva Na Madonna Raga Io vi ricordo Che c'è Sta pure La possibilità Di donare Sia su Streamlabs Punto Scammativo Donazione O Donazioni Punto Scammativo Ruota C'è la possibilità Sia di Ma no Questo Bannalo Si chiama Viverduce 1945 Bannalo Cioè Ci scrivi Un commento Moderatore Ci scrivi Nome Inappropriato Per stare Nella società E' un disadattato Via Bannale E dicevamo Ci sta la possibilità Maggiore livello 9 Oh la madonna Madonna qua Poi ci sta pure il record Raga Pure dell'Ap3 Qua 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 si fa il record Pure dell'Ap3 Ehi Qua ci sta pure il record Dell'Ap3 Guarda qua Una madonna Record dell'Ap3 Era tipo Non mi ricordo Quanto era 18 Livello 18 L'Ap3 Madre di dio Grazie Grazie Enrico Currato Grazie mille Bellissima Guarda Mi fa tanto piacere Grazie mille Oggi mi padre Mi ha detto Che sei una nuova fan Ciao bella mia Una nuova fedele Grazie mille Johnny Panny Sei messo Grazie mille Bellissima Grazie E' una figata La madonna Guarda là Cazzo che roba E' una madonna 67% Livello 18 Ma è impossibile Ragazzi Ci vuole che veramente Qualcuno inizi a donare Proprio 500 sub Ci vorrebbe Ma è impossibile Una botta A pace Ci vorrebbe Madre di dio Io lo sai che faccio Faccio un nuovo Obiettivo qua New record Io New record Ci manca veramente poco Veramente Veramente poco Ci manca Cazzo 150 sub Pah Putti una botta Vabbè Se lo raggiungo bene Se no Vabbè Nico Oh la figa Della puttana Ma che cazzo Porca troia Grazie Grazie Altro Porco De manio Asseva 5000 Porca troia Grazie Nico 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 E' una madonna 170 ore Siamo ritornati Cazzo Oh Amiche cazzi Cioè Sono tanti eh Grazie Time a arsare Sì sì Ho visto 5100 Viene l'usirena Ah è quello Ma viene comunque Viene Viene comunque Tutti si è abbingiata Tranne il pratterino Porello Tranne Il pratterino Minchia Porello Tutti In che senso Viene 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 Se non viene La faccio Vieni comunque Viene 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 sicuro Vado a mettere in gara Il cellulare Arrivo Madonna Raga Ancora mi ricordo Quella volta in cui Raggiunsi le mille sub Raggiunsi le mille sub Su Twitch Ed era record assoluto Ma proprio Mi ricordo che Su Twitch C'erano veramente Due persone Una persona sola Che aveva raggiunto Mille sub All'epoca Madre di dio Adesso la media Si è alzata tantissimo Vedo streamer Che hanno 50.000 60.000 Sub Ma che cazzo è Grazie Grazie Mazzoppino Ciao bello Eccolo E vedi il pratterino Ora è arrivata la sub Eccolo Per lì è bello mio Eccolo Ce l'ha sempre Ce l'ha Sta sempre in giovatta Sta Sta sempre in giovatta Porello Nessuno Non fa mai la sub Vabbè Grazie Grazie mille Willy Scemo 5 mesi Era sub Sto festeggiando Il quinto mese Di sub Con una bella pizza Ecco Ma è una bella pizzetta Una bella pizzetta Ce vorrebbe pure a me Sai In tutto ciò Hype train Livello 10 Porca troia Mancano 33 sub E 5.000 Ma è impossibile Prima sono buffato Dei sushi Prima Madonna Massimo storico Dell'hype train A livello 18 18 Ma ci vorrebbe Però 500 sub Per raggiungere Il record Impossibile 500 sub Ci vorrebbe Per l'hype train Non dico che è impossibile Però Grazie mille Lello Curso E 92 15 mesi Era sub Grazie Bacione Z nozzo E 95 Grazie mille 3 mesi Grazie mille 3 mesi Era sub Grazie Grazie mille Z nozzo No ma è impossibile Cioè Fidatemi È impossibile Cioè ricordo Che a capodanno Ci sono arrivato A capodanno Ci sono arrivato Quando avevo Quando avevo fatto 430 sub Avevo fatto 430 sub A capodanno Proprio Pum Sì sì Ora sì Porca Eva Guarda là Meno 32 sub Record Vuoi 100 sub Sì Certo No madonna No madonna Ma qual è il record Delle sub In assoluto Le Subscriber Su Twitch Italia Ma come cazzo fa Nezac Nezac Ce n'ha 4997 Per entrare Nella top 10 È impossibile Top 10 È impossibile Per entrare Nella top 10 Ci vorrebbe Kertus Kertus 5.000 Sub Kertus Ma io non pensavo Ma se sono alzate Tantissimo Il livello Delle sub Qua Atrix 9000 Ma che davvero Una porca Troia Ma io non pensavo Comunque Haptrain Concluso Ma io non pensavo Raga Io pensavo fosse Tipo Una cosa Che ne so Capitano Cimmo E 3.500 Minchia Cioè Devo vendere Un buscio De lo culo Per arrivare A 10.000 Sub Cazzo All'epoca Era diverso Era Vabbè Cioè Mi ricordo All'epoca Raga Che Chi c'aveva Mille Sub Era Il re Era Tipo Mille Sub Era Considerato Uno dei Top Streamer Mo Cristo Dio Vedo Certi Certi Numeri Mai visti Prima In vita Mia 56.000 28.000 Wow No ma In generale In generale Non è che siamo Diventati Troppi A livello De Subscribe Cioè Su Twitch Cioè Sono aumentate In un modo Pum Cioè 56.000 Sub Non si sono mai Viste Proprio Sarò io che sono rimasto Indietro Due anni Ma top streamer Vabbè Assurdo Tutti i soldi Tutti i soldi ricicolati Dalla droga Sì GTRP Però Allora Se vede che C'hanno un pubblico Più grande Più adulto Che segue più Le live Che so Vabbè Che sopporta Mi fa piacere Per loro Cazzo Non è Non è uno scherzo Wow Vabbè ma io The Prime Ce n'ho pochi Ce n'ho pochi Pochi The Prime The Prime Ce n'ho pochi Giftate Livello Tier 1 Tier 1 Ce n'ho Tipo The Prime Ce n'ho pochi Perché io vedo Tipo Piz C'ha 4000 Prime C'è Piz C'ha 4000 Sub Fate col Prime Poi vedo Tipo Zano 4000 Sub Col Prime Oppure Atrix 3000 Sub Col Prime Quindi i Prime Li fanno più che altro A questi streamer qua Che c'è il Prime Blur 31000 Prime Numeri incredibili Questi C'è io Praticamente Wow Incredibile Grazie Grazie Graebon Grazie Della Sub Ciao Bello Grazie mille Grazie mille Bellissimo Grazie Graebon Le volete Vedi pure voi Allora qua Praticamente Stiamo a parlare Che tipo Sabago C'è Quasi tutte Sub Prime Qua Io sto a vedere Da qui Da questo sito Non so se è attendibile Pure Greenbound Rischiando Rischiando già La metà Delle sub Mie Prime Incredibile Comunque tutti Sti Prime Qua Assurdi Power è calato Non lo so io Do sta Power Power Stava tra i top 3 Mi ricordo Top 4 Ventottesimo Ma no Non è calato Dai 2300 sub Non so Poche Dai C'è 2300 sub Raga Non so Poche Dai C'è Sottante La cosa è diversa La cosa è diversa È che tutti questi stream E i numeri Li fanno No no Ma io anche Anche senza maratona Ragazzi Le Prime Ne faccio Guarda Vado un attimo A controllare La mia dashboard Arrivo Allora La mia dashboard Vado a controllare Guarda Te lo dico subito Quando faccio io Ma i Prime Tanto sono quelli Non è che Ne faccio di più Minchia Allora Buonamente i Prime Ma Allora Su 2000 abbonamenti Il 60% Prime Quanto è? 60% Prime Quindi Circa 1200 Quindi sto sceso A livello Deve sub prime E forse perché Tante persone Hanno ricevuto La sub Il regalo Per quello Forse per quello Perché Hanno ricevuto Sub Il regalo Quindi non hanno fatto Il prime Non hanno fatto Vabbè ma io Normalmente C'ho 2000 Sub Cioè Io 2000 Sub Al mese Le faccio Sempre Ragazzi Anche fuori Dalle maratone Quindi Ovvio Se stimmo Tutti i giorni 8 ore al giorno Per 6 su 7 2000 2000 Ah vabbè Sto bene Insomma 2000 sub Quanto sto In teoria In classifica 2000 sub 2000 sub Al mese Dovrei essere Tipo Il cinquantesimo Se non erro Vabbè 2000 sub Al mese In teoria Top 30 Dai Top 30 Dai Top 30 Dai Ma sì Ma io ragazzi Ho sempre fatto 2000 sub Grazie mille Blecaiare Grande Blecaiare Grazie mille Bello mio Grazie 77 mesi Non ci sono parole Per descriverti Grazie mille Bellissimo Un bacio enorme Grazie Grazie mille Bellissimo Ma Omidol Adesso sta con Got League Credo Omidol È entrato Dentro Non è che È uno stream Ma più C'ha Entrato in società Mi pare Mi aveva detto Con Con Got League Collabora con loro Quindi Fondamentalmente Sono top Ah io Non guardo Non seguo il calcio Purtroppo Grazie mille Che cofra Grazie mille Dieci mesi Eresab Grande Un bacio Enorme Grazie Ti vogliamo Nella quarta League Pure a te Ah ma io Glielo ho detto Omidol Quando vuoi Mi chiami Io ci vengo A fare Una comparsa Quando ti pare Confermo a te Io lavoro Per Dalila Ma quando voglio Non ci capisco Un cazzo Ma dovrebbe essere Un bel format Non so Parlano di calcio O Ci hanno Tipo Non lo so Che fanno Non so nemmeno io Che cazzo fanno Non mi hanno mai chiamato Mai Hai detto pure a me Per la cota Lì che ci metto la parola Ma Chiru Io non so Che roba fanno Per Per Guadagna come un canale Con 20.000 sub Non lo so So che io va bene Quindi So felice per lui Veramente So veramente Felice per lui Veramente Io Omidol È una delle poche persone A cui voglio Veramente bene Omidol Oltre Oltre a lui Voglio bene pure A Palo Idolo E A poche persone Su Twitch Posso dire Che voglio bene Come loro Sì sì È un bravissimo ragazzo Omid Gentile Umile Grande persona Questa canzone sottofondo Sembra che ce sto a provare Sembra che vi voglio succhiare Un bisello Però Cazzo Allora Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Zeba Quattro mesi Re sub Ciao bellissimo Un bacio enorme No 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 Vedi un po' Che Omidol Magari Penso male No 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 Fermi 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 Ma ha smesso di stream No no Fa Ti ripeto Collabora con Con il masseo E mi hai fatto Qualche parte di No Ma il masseo Da quello che so Non gli sto simpatico Da quello che so io Io sto simpatico No ma io Proprio con quella cerchia lì Io non Ma che ne so perché Boh Lo dovresti chiedere a lui Non lo so Una volta Una volta mi ero arrabbiato Perché in una live sua Tipo stavo a fare la reaction Stavo a fare la reaction Tipo i best of Tucci Italia No I best moment Tucci Italia Tipo era arrivata la parte mia Era arrivata la parte mia Ha preso Ha chiuso il video Ha detto no Io mi attacca esse Non riesco proprio a vederlo È cringe È cringe Non riesco proprio a vederlo E ha chiuso il video Poi dopo Io mi ero incazzato Per sta roba Tra virgolette Arrabbiato Poi dopo l'ho rivisto Al Games Week Ci ho parlato L'ho visto da lontano E gli ho detto Oh Masseo Masseo È venuto verso di me E Abbiamo parlato Abbiamo chiacchierato Vabbè praticamente Mi ha ridetto Ha detto che Secondo lui Io sono cringe Me l'ha detto pure in faccia E A posto Cioè basta lì Finito lì Gli ho detto vabbè dai Allora buona giornata Buona serata Quindi Cioè almeno è stato onesto Me l'ha detto in faccia Vabbè oh Sono gusti Io mi sento dio Allora tu non mi segui Stai a scherzare Dai questo è uno scherzo Dai un trolla Ah già due panna alle spalle Per insulti Ah un panna alle spalle Ascolta me Chiudi Twitch Vai a lavorare Che non sai nemmeno Cosa significa lavorare Ecco Uno che mi ha scritto Una roba del genere Sì sì Vabbè Si diverte Mattè ma con pizza Anche lui è un bravo ragazzo Assolutamente Assolutamente Pizza Festo Se li devo nominare tutti Dopo Se li nomino tutti Porelli Dopo Magari Metti caso che me sfugge qualcuno Metti che me sfugge qualcuno Dopo ci rimane male Quindi Ce ne stanno tanti ragazzi Che Che me vogliono bene Greenbound Non lo so Il campionato Formula 1 Boh Non lo so Non lo so Allora comunque Fabio Z 5000 Quasi 5000 Quasi 5000 Ci manca poco Per 5000 Non lo so Ma ho visto Che mi ha scritto Però Non Comunque ragazzi I numeri Non fanno lo streamer I numeri Non fanno la persona Questa è una cosa Che uno deve capire Cioè Se uno fa pochi numeri Non significa Che se uno fa pochi sub Non significa Che sia una brutta persona O Quello che è Ah non lo so Perché Che sito rosso Quei è Pornhub Non lo so Non lo so Che sei come streamer Eh ormai Quello Avanti Per i cazzi suoi Avanti Sì sì no È un bravo Un bravo streamer Mi padre Ehm Ciao merci Ciao merci Ciao bella Perché Perché ci stanno Quelli delle sub Quelle passate Che insomma Chi leva la sub E poi dopo Ciao Assomostated Eh scusami Ma non ti ho mai sentito Cioè la partner Ma io non Vedo tanti Che hanno la partner Che vengono in chat Però non Non so chi siano Come sto io Alla grande Ti invece come stai Ma vabbè Mi padre va avanti Per la strada sua E Che devo dire C'ho un padre streamer È bravo Non Ah ma io non lo so Come ti chiami su GTA Ma io mi trovo bene Con tutti ragazzi Io non Non c'ho problemi Con nessuno Ma poi L'ha ucciso Cioè Catturato Intrappolato E poi dopo Ci ha pensato Mi padre Mi padre Ha detto che Tipo con la scopa L'ha 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 fatto scappa via Secondo me Era ammazzato Ragazzi Rosso L'altra sera Io dopo ho rivisto La live Sua Vabbè Giustamente È arrivato Blur Ha preferito Fare entrare Blur Invece che me Poi dopo Quando Blur è andato via Voleva farmi entrare Ma io non c'ero più Eh Io non è che posso Stare come di suoi Cioè Nel senso Io glielo ho detto Massimo 20 minuti Posso entrare Ma hai dato un orario Io vengo a quell'ora Poi dopo Cioè Se tu vuoi far entrare Altri ospiti Fagli entrare Io purtroppo C'ho il mio Il mio content Io non me posso Io non me posso Annullare Cioè Per te Io Tu mi hai dato un orario Io sono stato lì Puntuale Preciso A 45 Dalle 11 A 45 Fino a mezzanotte 10 Sono stato lì Ad aspettare così Aspettare così A vedere la live tua E Se non mi hai spostato Ci avrei avuto Le due buone motivazioni Per far live con Con Blur E con chi altri Infatti Non è che mi sono lamentato Per questo Però ecco Diciamo che Io ho detto Capisco tutto Capisco però Insomma Io che sto a far lì Aspettare lì Stavo in sala d'attesa E vabbè No vabbè Non mi voglio lamentare Io gli ho detto Guarda Sarà per la prossima Vediamo Un po' dopo Mi ha scritto due messaggi Ma non c'ho tempo Appena finita la maratona A me ricopro tutto Ah io non lo so Raga E Arriviamo a 5k Ma magari Ah non lo so Mr. Corra Vabbè ma Ognuno Se uno usa i contenuti Altrui Non ci vedo nulla di male Nel fare video reaction Se uno invece Fa tipo Che ne so Aggiunge il valore Un valore secondo me A quel contenuto Se è bravo a reattare Come io Che gioco un videogioco Che De proprietà De Per esempio Rockstar Per esempio GTA San Andreas E poi ci metto un valore aggiunto Quindi alla fine È la stessa roba Io mi devo lamentare Con le persone No ragazzi Io non voglio far Cagnara Sotto questo punto di vista C'è come Come Grimbau Dell'altra sera Mi ha chiamato Poi dopo una certa Ma C'è Ma pure risposto male In live Ma pure risposto Scazzato In live Vabbè ma se tu Mi chiami due ore prima C'è se tu mi scrivi Alle 20 Mi scrivi alle 20 Ma te vieni in live Alle 22 stasera Io ti rispondo Invece che risponderti alle 20 Ti rispondo alle 22 e mezza Alle 22 e 30 Io ti rispondo Ti dico Sì vengo Sì vengo Poi Alle 22 Alle 22 Vado nel canale suo E mi dice Eh ormai è andata Eh ma te Ok se Ormai è andata Sarà Mi dovevi contatta prima Te eri un'ora fa Uno che mi risponde E così Io che gli devo fare Cioè non è che So io che voglio Andare nel canale Cioè lui che mi ha invitato No io non sono arrivato tardi Lui non ma Io non sono arrivato tardi Ragazzi Lui mi ha scritto Alle 20 Io gli ho risposto Mi ha detto Vieni stasera Matteo vieni Io gli ho scritto Alle 20 e 30 Gli ho risposto Gli ho detto Sì vengo Vengo stasera vengo Sono andato in live su Alle 22 Alle 22 Come Come mi ha detto lui Io sono arrivato in orario Come mi ha detto lui E vabbè poi Ci può sta Vabbè uno non è che mi scrive Io sto lì a controllare il cellulare Ogni due minuti Sto lì pronto Sì sì vengo vengo Così Cioè nel senso C'avevo un attimo da fanno Io ho risposto subito Vabbè Comunque Mo Invitare Cioè se C'aveva tanti ospiti Mo Un ospite in più Un ospite in meno Non penso che Gli avrebbe fatto Cioè Non penso che Gli sarebbe cambiato qualcosa Un ospite in più Un ospite in meno Però vabbè Rispondemmi male Così Non lo so L'ho visto un po' Ognuno poi fa come gli pare Ognuno fa come gli pare Ripeto Non Non lo so Io ho detto Sarà per la prossima Ciao Violette Ci andrai la prossima volta? Cioè alla fine Lui c'ha pure ragione Perché lui mi aveva scritto Le 20 e 30 Io gli ho risposto Le 22 e 30 Cioè io Allora lui mi ha scritto Le 20 X-Final 50 sub gift Una madonna De Dio Grazie Grazie mille X-Final Un bacio enorme Grazie 5000 sub Super record Cazzo Manca 100 sub Mancano 100 sub Per arrivare a 5100 No almeno Le 200 Quanti ce ne mancano Cioè è incredibile Sta roba Io so incredulo Grazie mille Bellissimo Madonna santa Allora bisogna Fare una bella torta Domani cambio Cambio del programma Domani non si fa più I gnocchi Domani facciamo la torta No no Domani no Domani no La faccio giovedì Giovedì Faccio la torta Una bella torta 5k Faccio Prendo il pan di spagna Faccio proprio 5k Faccio un bello Se non sbaglio Green Stava facendo Un format In cui c'erano Due squadre Che dovevano Bartersi E la riunione Era composta Da tre persone Secondo me Una persona in bruglia Avrebbe creato problemi Perché poi Le squadre Erano sbilanciate Doveva trovare Un'altra persona Ancora per pareggiare Le squadre Ho capito Allora lì c'è un problema D'organizzazione Galessio Allora ti ripeto Se uno ti scrive Alle 20 Ok Se uno ti scrive Alle 20 Per le 22 Allora Ha sbagliato lui A scrivermi Alle 20 Per le 22 Doveva scrivermi Il giorno prima Se volevi Invita agli ospiti Dovevi scrivere Il giorno prima No La sera stessa Per la sera stessa Scusami Quindi Eh Vabbè Comunque Non l'avrò affatto Per male Non l'avrò affatto Per male Ma mi dispiace dirlo Greenbound Non è proprio Professionale Se vuoi fare Un format nuovo Organizzati Il giorno prima Almeno Mi dispiace Mi dispiace dirlo Mi dispiace dirlo Ma Ecco si Grazie mille I Novak Ciao bello Grazie mille Novak 100 bits Buonasera Matteo Come va Bello mio Stavo nella stream Di Babbochese E niente Ora sto qua Grazie mille Novak Un bacio enorme Oh Novak C'è sta uno Che ti ha superato Novak C'è sta uno Che ti ha superato C'è sta X-Final Che c'ha 100 sub Vai da sta canzone Oh mi ricorda I vecchi tempi De GTA Questa era GTA L'altro giorno Questa Questa qua GTA San Andreas Questa è Yo finally 2-3-4-5 4-1-2-3-4-5-6-7-8-9 E 10 Io mi ricordo Che ci stanno ospiti Ragazzi Che io di solito Quando organizzo le cose Le organizzo tipo Boh Una settimana prima Due settimane prima E me danno buca Quasi tutti Me danno buca Cioè Io alla fine Chi me dà buca Ragazzi Chi me dà buca Una volta Io Poi per me È come se fosse morto Cioè nel senso Non è che te richiamo La seconda volta Se uno me dà buca Una volta Io Cioè ci rimango Ovviamente Ci rimango ovviamente In buoni rapporti Però io non è che dopo Lo vado a richiamare Per la seconda volta Ma che Novak Con le sub Impossibile Oh Impossibile Allora Se hai 5.000 sub Lo so 5.000 E 16 sub Raga Porca troia Vado a prendere il telefono Aspetta che mi si vede un pisello Eh C'ho la mano Dentro le palle Voglio ringraziarvi Ragazzi Ragazzi Voglio ringraziare Tutti quanti Ragazzi Perché abbiamo raggiunto Finalmente Le 5.000 sub Le 5.000 sub Ragazzi Guarda qua Belle precise Non so se si vede 5.000 sub 5.000 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 Per l'esattezza Grazie mille a tutti quanti Top Donator Grazie mille Soprattutto Il 4.000 quanti quelli che hanno fatto le top donator, top donazioni qua io vorrei ringraziarvi tutti quanti uno per uno, non è questa che si è messa da sola, vabbè, mi dà un cazzo qua tutti quanti tutti questi, tutti 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 tutti, ci mancano ancora altri nomi che devo scrivere qua veramente, grazie grazie, grazie, grazie grazie, grazie a tutti voglio ringraziare tutti quanti ragazzi perché abbiamo raggiunto finalmente il 5.000 5.000 sub 5.000 5.000 5.000 sub grazie mille a tutti quanti yo pazzesco 5.000 5.000 sub madre santa perché sei qualcuno che ti devono dire che ti devono dire a per forza per forza sì a forza sì no, no, ho capito non ho capito allora, guarda, scusami bello mio ti spiego allora, se io organizzo se io organizzo per far venire un ospite a casa mia cioè qui nello studio mio scusatemi nel mio studio io faccio venire un ospite ok mi organizzo due settimane prima due o tre settimane prima questa persona mi dà l'ok gli prendo il biglietto gli compro il biglietto del treno o dell'aereo o quel che sia mi organizzo per andare a prendere queste persone mi organizzo pago in anticipo il il bnb o l'hotel quello che è quindi pago tutto organizzo il format e tutto faccio i post quindi sponsorizzo l'evento e tutto quanto poi questa persona il giorno prima per il compleanno di sua cugina mi dice no non vengo più non posso venire perché c'è il compleanno di mia cugina perché si era dimenticata ma come fai a dimenticarti? cioè per me quella persona è come se fosse morta cioè nel senso io non la invito più sul mio canale quindi non è che per forza si eh oppure che ne so eh scusami ma te ma io non riesco a venire eh mi dispiace eh no eh me so dimenticato me so dimenticato eh dimenticarsi che che te vuoi dimenticare vabbè io faccio finta di niente dico ah vabbè tranquillo sarebbe la prossima volta che io vado a dir scusami io ti ho pagato il bnb ti ho comprato ti ho comprato il biglietto tutto che io vado a rinfacciare le cose dico vabbè dai sarebbe la prossima lascia aperte eh però vi ripeto eh no no ci stanno una marea di persone ci stanno che fanno così fidatele cioè se uno mi dice si vengo a meno che non ci stanno problemi seri eh non mi puoi venire a dire dopo all'ultimo cioè io una volta avevo pagato il bnb grazie zero twitch tv ciao bello grazie mille della sub un bacio enorme grazie allora io pago il bnb pago il bnb pago tutto un po' mi viene di eh ma te ma sai com'è ieri c'ho avuto ieri c'ho avuto un impegno importante ho fatto tardi non riesco a venire perché sono tante ore di viaggio non riesco a venire tante ore quattro ore quattro ore sono tante quattro ore di viaggio come ma per me queste persone cioè poi non è che ti ripeto giorno prima per il giorno dopo due settimane prima ciao Romina come stai eccola Romina amore mio eh scusami che tutte quante le amiche mie le chiamo amore mie ciao Romina come stai ciao bella mia scusami no ho detto amore mio a te ho detto amore mio a desiriz pur a valetrix scusami ah vabbè ciao Romina come stai io bene ancora stai là in mezzo alle montagne con la neve mamma mia io ti voglio venire a trovare ma qua c'ho la maratona cazzo lei sta in un posto posso dirlo posso dirlo vabbè lo dico lo stesso vicino Roccaraso vicino Roccaraso io non ci sono mai stato sulla neve mai mi padre mi ha ci portato tipo un paio di volte quando quando ero piccolo però prende una bella villa no no io ho detto no io ho detto io ho detto che che se io li chiamo due settimane prima mi organizzo due settimane prima gli dico vieni e loro mi dicono sì poi dopo loro mi dicono all'ultimo prima che vengono a casa mia mi dicono no io non li chiamo più ho detto questo ho detto ognuno la pensa come gli pare poi se hai capito fiaschi per fischi è un altro tipo di scorsa ciao Nova 8i ciao bello grazie Nova che un bacione grazie grazie su e me guarda chi mi ha scritto chi non muore se li vede a broia a zoccolà mo che cazzo hai sì sì mo ci penso io mo ci penso io a te mo ci penso io a te sì 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 mo ci penso io vieni vieni mo ci penso io vieni vieni neanche gli visualizzo non gli visualizzo per due giorni poi dopo due giorni apro la chat non gli rispondo aspetto che mi chiama porco dio gliene dico quattro gliene dico quattro oh assurdo oh assurdo i sordi attirare la figa in un modo assurdo eh sì sì venne 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 da Matteo venne 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 ti aspetto venne venne te faccio sputa sangue ragazzo mo 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 sto già a pensare qualcosa di cattivo per fare proprio per vendicarmi sto a pensare qualcosa di cattivo tipo qualcosa di super cattivo ce la faccio crede e poi dopo la blocco no perché se l'ha fatta una volta con me no se l'ha fatto già due volte con me poi no no farcela crede no è stato maso gli do appuntamento a me sta vabbè a me sta guardando la live vabbè gli do appuntamento e poi dopo invece di presentarmi a me invece di presentarmi io io da lei invece di presentarmi io da lei ci manda un amico mio nero porca troia sì sì uno grosso alto porca troia cioè ma cosa ci faccio vedere io no qualcosa che devo fare c'è qualcuno in giatta che magari è è un po' carbuncino come sul redem che vorrebbe andare al posto mio addio sì sì guarda guarda sì sì ti aspetto ti aspetto sì sì quando devi correre a voglia ti aspetto ti aspetto ma come poco poco mi scrive dopo ci penso io siamo quasi al termine per due ragazzi ultimi 5-6 minuti ultimi 5-6 minuti no 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 a parte scherzi no ehm non lo so non lo so che cosa fa ehm no ignorarla no dai mi sembra brutto ignorarla no però magari gli rispondo però in maniera fredda magari gli rispondo ma in maniera fredda dai cioè perché devo sempre essere disponibile dimostrarmi disponibile a una persona che mi ha trattato male più di un'occasione in maniera fredda gli rispondo gli rispondo in maniera fredda e vedo che cazzo vuole ma non vedo l'ora che mi viene a chiedere i sordi come ho fatto l'ultima volta eh ma te dai tu sei ricco non è che mi fai un prestito di 50.000 euro che 50.000 euro e che vediamo la banca d'italia mediolanum perlusconi ma che cazzo vuoi da me 50.000 euro ma 50.000 carci nel bucio del culo quello che c'hai sponato porca madonna no a me nel culo non mi piace no porca dio larga porca madonna io porca dio porca madonna cosa faccio per te porca madonna cazzo stai gold digger guarda volete ride ma porca madonna l'ultima la l'ultima volta mi ha chiamato mi ha detto oh ma no non posso dirlo non posso dirlo no non posso dirlo è una roba illegale raga non lo posso dir 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 è una roba illegale mi ha chiesto no più che altro se mi sta a vedere la live dopo si incazza insieme agli amici magari vabbè mi ha chiesto se vabbè dai lo dico dai sti cazzi mi ha chiesto se se conoscevo qualcuno che vendeva le patenti le patenti della macchina cioè già farete così il suo m hai fatto la sub te 10 sub gift no allora io qua non vedo il swam allora io qua devo scrivere sissio gamer scritto dj harvester devo scrivere il nome 2 qua non lo vedo tra la lista non lo vedo l'ho fatta ma te che è punto schermativo muro hai donato 10 sub non ho capito i giochi horror i giochi horror li faccio voglia carboncina calda a 2 km da te io non lo so serve uno stemma baggia per riconoscere quelli che sono già sull'umuru eh lo so servirebbe ciao valerio ecco a me valerio mi fa sempre paura porca leva ogni volta che sta in chat beh bene da quei bani scusami vabbè tu sai perché valerio grazie grazie ferro grazie mille da prime ciao bello grazie mille muah ma te ma ti hanno mai più ordinato il sushi a casa ci possono solo provare denuncia denuncia gogo ci potete solo provare ragazzi denuncia gogo comunque grazie ferro grazie mille bellissimo grazie punto scamadio muro guarda ti spiego allora per per entrare a far parte del muro il suem punto scamadio muro ci sta scritto tutto lì praticamente sono 10 sub gift tutta una botta 30 euro 30 euro oppure 2500 vita e non valgono le donazioni cumulative esempio 3 più 2 più 5 quindi a secche secche x final si si dopo te scrivo te devo scrivere più tardi più tardi te scrivo devo scrivere anche quelli che so due giorni che porelli non lo scrivo nessuno devo c'ho tutti segnati però i nomi che devo scrivere si si anche te x final e dato che hai donato 100 sub ti scrivo bello grosso enorme bello grosso enorme ti scrivo allora raga niente deve essere un borro no madonna raga mi dispiace per tutti mi dispiace per tutti voi ma io levo il sole 22 levo il per 2 tolgo il per 2 comunque grazie mille a tutti per le donazioni grazie mille a tutti per le sub per tutto speriamo che arriva il per 4 magari un per 6 magari vediamo che domani ci abbiamo una marea di roba eh la voglia domani la voglia te allora 60 60 60 momento che sto cambiando il link ok levo il per 2 ok ci siamo no massimo è il per 6 ma è impossibile per arrivare al per 6 ci vuole una botta di culo come oggi per 2 una botta di culo assurdo stasera proprio una botta di